Anche le opere idrauliche vanno fatte, così come Bologna è diventata una città delle acque per via necessità industriale, perché appunto il navile non esisteva, viene sezionato a Monte di Bologna, viene riportato dentro a Reno, da Reno passa dalla città e ritorna indietro, come l'han fatto? Bisognerà porsi il problema di toglierlo, ci sarà il modo di toglierlo, non sono un ingegnere idraulico. Una volta dentro ai canali di Bologna ci si andava col gommone come esperienza turistica, l'han tolta per evidenti motivi di rischiosità, era bello, chi l'ha fatto straordinariamente interessante, però sotto le due torri c'era un ponte romano, c'è ancora un ponte romano, chi l'ha visto dal di sotto rimane stupito, però prendiamoci conto come la città sia cambiata negli ultimi 100 anni, soprattutto da un punto di vista industriale, architettonico, hanno tombato tutti questi 50 km di canali che abbiamo sotto i piedi. È morto una settimana fa il grande ingegnere che ha fatto il canale Emiliano Romagnolo, nessuno l'ha detto, nessuno l'ha salutato, ma lui ancora in vita, lucido fino a poche settimane prima di morire, diceva, guarda abbiamo fatto queste cose, ma ora bisogna cambiarle, bisogna sezionare questi canali che abbiamo fatto 30 anni fa, dobbiamo cambiare il navile nel proprio corso, non sono un tecnico io, però è evidente che il cambiamento è necessario.